Claudio Marchisio, ex calciatore italiano, è stato un centrocampista di grande talento. Ha legato gran parte della sua carriera alla Juventus, club con cui ha vinto sette campionati consecutivi di Serie A, dal 2012 al 2018, uno di Serie B, 2007, tre supercoppe italiane, 2012, 2013 e 2015 e quattro Coppe Italia consecutive, dal 2015 al 2018. È stato inoltre inserito per due anni consecutivi, nel 2011 e nel 2012, nella squadra dell'anno in Italia e nella squadra dell'anno della UEFA Champions League nel 2015. Principino è uno dei soprannomi con cui è stato chiamato per il suo modo di vestire il comportamento in campo. La sua carriera è stata ricca di successi e partecipazioni a competizioni internazionali, tra cui gli europei di calcio e i mondiali. Marchisio è stato un giocatore di grande classe e dedizione, lasciando un segno indelebile nel mondo del calcio italiano.